ma non potevi farlo le due ore prima no ciao ragazzi sono red e io sono war e bentornati da m tactical shop mi ci devo ancora abituare anche io fa strano avrete sicuramente notato che sono cambiate svariate cose prima tra tutte le magliette le magliette siamo cambiati vestiti questo ovviamente del junior soft cream 2024 dal quale io sono appena tornato e vorrei far notare che un loghino molto importante qui dietro l'altra cosa che cambiate è che finalmente abbiamo le patch no abbiamo la prima patch di patch beh volevamo qualcosa di nuovo qualcosa che non avesse nessuno abbiamo optato per la pelle umana non è solo punzonata è anche incisa a laser cioè è stato fatto un lavorone per dare comunque l'effetto 3d sulla pelle cioè ci è voluto un sacco ragazzi queste usciranno agitate sono inizia illimitata quindi ovviamente se le volete le trovate sul nostro incredibile sito che è ancora monopoli tra l'altro affrettatevi perché me ne hanno dovute prendere varie e ho finito la pelle sul culo ma non siamo qui per parlare di quello che è cambiato ma per parlare di quello che è rimasto costante piacevole ovvero la qualità dei video e insieme alla qualità dei video ovviamente anche il rate my setup 2 sigla questa volta molti ce l'han fatta siete riusciti a rispettare le richieste che avevamo fatto perché l'ultima volta è stato un puttanaio delirio mandarle sull'instagram del negozio andate a seguirlo mtactical-shop le avete mandato qualche d'uno nonostante ciò non ce l'ha fatta mandando foto solo di buffetteria senza indossarla non ce l'ha fatta parleremo magari anche di questo comunque abbiamo qui selezionato alcuni setup non i più belli non i più brutti quelli che avevano rispecchiato meglio tra l'altro le clausole quindi direi di partire come facciamo? come l'altra volta? io direi che allora sì le regole non sono cambiate mi raccomando se non avete visto rate my setup 1 ovviamente andatelo a vedere perché è un video incredibile spettacolare inarrivabile vi ricordo che ne faremo degli altri durante l'anno perché c'è un'ottima partecipazione c'è stata anche stavolta quindi non appena arriveremo a 2000 mi piace sotto questo video vi porteremo il rate my setup 3 come l'altra volta guarderemo le foto insieme le commenteremo e poi uno di noi due sto vedendo copri copri ah scusami uno di noi due a turno darà il voto primo soggetto Edoardo Giampuzzi lavati per favore iniziamo inizio io allora intanto adoro questo mp9 con silenziatorone tutto chittato dicchia la faccia del silenziatore mi piace questo olive l'olive nelle foto e il ranger green si confonde penso sia ranger green dell'imbardo mi piace molto l'abbinata ranger green buffetteria e altri elementi neri questo è molto piacevole vedo un tourniquet tourniqui tourniquet insomma con la tasca a calza giusto sotto le tasche ovviamente da 9 mm vediamo se c'è un'altra ok abbiamo anche il posteriore allora molto carina incentrata direi sul ruolo medico visto che ci sono patch med è un farmacista è un farmacista è un farmacista a portacaricatori potevamo fare di meglio la base del plate è un plate economico perché si vede come riflette la luce guarda che non ha trattamento neanche IR neanche UV carina che abbia la tasca porta granata un utility di dietro insomma è un livello intermedio la base sicuramente c'è nel senso è un ragazzo che si è informato ha visto altre persone e questo formato serve anche a questo voi ragazzi a guardare altre persone cosa fanno sentire il parere di qualcuno che lo fa da anni e per lavoro e così riuscire a fare gli aggiustamenti è ovvio che noi ci concentriamo sulle criticità cioè su quello che ci salta all'occhio ma questo non vuol dire che la vostra società faccia schifo se vedo un in campo così rispetto alla media è altissimo quindi io do il voto allora l'ultima volta ci hanno detto che siamo stati troppo buoni cioè tutta la gente che incontravo ah sì? no no sei stato buono cioè ma come quel voto lì io gli avrei dato meno a sto giro io darò 10 è il setup drip del mondo cioè con più schesciato più tirato più bellissimo che io ho in testa più ricercato esatto e uno è letteralmente Fortnite tanto quello è l'esempio migliore per descrivere i setup quindi io a questo darei un sette sette e mezzo deciditi è sette o è sette e mezzo? sette e mezzo ok ti do sette e mezzo fammelo fammelo sì c'è della cura ma la percepisco molto come copia e incolla ok cioè non c'è della personalizzazione particolare esempio stupido anche come copia e incolla avresti dovuto nascondere un po' quei cialum bellissimo il gruzzolino lì sotto però sì c'è lo percepisco lì vedo che ci hai messo sulle cose ma ti manca un'attenzione più dettagliata come tu invece vuoi far sembrare su un setup così dettagliato allora Michelangelo cappelli allora Michelangelo c'era il flash in quella foto perché sembra che tu stia guardando nostro signore un po' catafratto attenzione tu hai notato il dettaglio dell'estrazione l'avevi notato l'ha fatto con lo scotch l'ha fatto con lo scotch fermato l'occhio ovviamente alla patch del FOV col portatelefono lì davanti che è il nuovo nuovo meta di tutti i setup tutti vogliamo avere il portatelefono qua davanti ovvio volevo dire ovviamente Forward Observation Group ci salutiamo ciao amici ciao che ci guardano ci seguono sempre ovviamente Faye visto il cinturone Faye che mi ha fatto un po' male sarò sincero anche la tasca portacaricatore completamente intessuta la tasca portacaricatore messa lì un po' fuori posto diamo un occhio veloce al posteriore c'è incredibilmente più cura c'è incredibilmente più cura bella anche la fondina è una royal va bene però va bene le fascette attaccate dietro anche se mia esperienza personale le perdi ovunque attenzione c'è un accenno di fucile sì ok 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 sì con l'aquila cosa tiene l'aquila? temo di sì secondo me non sta tenendo voglio credere che non sia quello è un po' lo stesso discorso di prima secondo me le Vans a me catturano molto l'attenzione allora le Vans sono belle quanto l'espressione secondo me le Vans sono belle quanto l'espressione però però vedi però vedi anche lui si è attaccato al laccetto anche lui ci ha messo il gruzzolino di taglie messa lì non aveva i soldi per l'estrazione o ha giocato molto a COD Cold War fa lo stesso papà mi dai il nastro e domenica papà e fai questo lavoretto qui hai mischiato degli stili ci hai provato ci hai provato bene perché secondo me il posteriore cazzo questo è davvero difficile no non è così difficile ma va bene lo stesso cagata 7 più perché effettivamente ci hai provato cioè si vede che ci stai studiando e ci stai provando 7 più grande ritorno sui nostri schermi di Papagian Softair che ci avevamo mandato già una foto l'evento scorso quindi abbiamo deciso di premiarlo questo è un'astra direi quello è un'astra questa è un'astra si ha gli elementi tipici dell'astra ottima scelta Papagian qui ha votato un setup molto più leggero rispetto che l'altro un bel cestrighino tutto woodland anche i guanti impact della woodland pantalone infilato all'interno dell'anfibio a me non fa più impazzire un tempo secondo me sono stato il più grande fan del pantalone infilato dentro l'anfibio l'avrei preferito diverso anche la cinghia un punto invader tra l'altro si vede proprio un bel logone attenzione perché la non con un fucile così lungo no allora Papagian che dire mi piace perché ovviamente immagino questo se fosse setup per giocare in boschivo rispetto a quello urbano che ci hai mandato l'altra volta a mio avviso va bene andare leggeri così mi sembra molto leggero anche perché denoto questo Sherlock Holmes che dal PTT che hai attaccato sulla spalla tu abbia la radio sul posteriore questo in boschivo io preferisco non farlo e soprattutto se ce l'hai nel posteriore immagino anche che mettere uno zaino renda le cose un pochino complicate quindi per me avere un cestrigo con un pochino più tasche sulla parte frontale e uno zaino sul posteriore in boschivo è la morte sua è perfetto io voglio premiare anche la costanza quindi qui do un 8 perché per me è giusto che prenda un 8 perché comunque è un setup minimo devi giocare in boschivo non sicuramente non ci vai a fare una PLR una PCS da 8 o 24 quello lì che si deve essere però c'è una costanza che viene persa col mio invece di voto a me leggero non piace cioè nel senso così minimal secondo me è troppo tirato via non cestrigli odio a morte allora abbiamo Giovanna Micheluzzi che credo sia il profilo di un parente non il suo perché la faccia di questo tizio nonostante sia una piccola parte non è Giovanna uguale allora piastrine a vista un figlio pacchiano ma lo accettiamo perché è carico gilettino quello corpetto unico da SWAT in setup probabilmente c'è un conflitto di interessi stavo per dire tra la bandiera americana black and white punisher e quella inglese però parlano entrambi inglesi si capiscono si comprendono quindi i pantaloni credo siano dei Defcon 5 vecchio sono dei Defcon 5 ah guarda la tasca sì sono quelli che indosso anch'io adesso grande vecchio non si vede ah ah la gamba anche io indosso dei Defcon 5 sono dei Defcon 5 però si li fanno anche in versione corta gli stessi pantaloni tira giù quei piedi passamontagna è un pochino alto sulla fronte l'avrei tenuto un po' più basso ma ci può stare ci può stare questo invece è il discorso che valeva per te prima che io voglio premiare la sua cioè lui ha detto cazzo non devi per forza per essere bello essere qualcuno pieno di equipaggiamento però con le cose giuste quindi togliendo il conflitto di interessi delle patch togliendo le piastrine vista tra l'altro senza niente inciso togliendo la testa un po' spoglia tu con queste contestualizzazioni decidi di dargli un 6 e mezzo 6 e mezzo secondo me è giusto con contestualizzazioni Marco De Muru ecco questo è uno di quelli che ho messo perché mi faceva molto ridere voi state vedendo la foto adesso ecco proviamo a capire dov'è in questa foto l'abbiamo trovato Marco che posso dirti molto bello se io vedessi pixel per tutta l'immagine sarebbe anche meglio da quello che posso vedere tanta roba ti do un 6 appena sufficiente perché la prossima volta mandami una foto dove si veda qualcosa di più grazie Marco cosa devo dirti sono d'accordo con Red sempre per la nostra rubrica foto che ci hanno lasciato un po' così ma abbiamo apprezzato ma noi avevamo detto di non farla in bagno no abbiamo detto di non farla in bagno con hai ragione vecchio ha abbassato no che il soft air ha abbassato la tavoletta tua madre sarà un sacco contenta di te ha tolto il caricatore non si fa le foto col caricatore questo l'ho notato infatti ho deciso di premiarlo perché è un bel un bel tocco di classe la cintura è una è tutto è tutto replica ferro o è ferro vero allora 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 questo 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 vuole i guanti non mi piacciono cioè quei guanti li li puoi usare per fare l'esamino magico ma per sparare no ho fatto un po' un mix di mimetismi è quello che stavo guardando tu sai il multicam poi passi al coyote penso per le tasche 9 mm a sinistra poi hai il multicam black poi hai il woodland sotto ma il multicam anche sulla fondina cioè allora per spezzare la sagoma può funzionare però avrei tenuto magari multicam e woodland benché a me non piaccia come mix però non il multicam black attenzione un po' tempo in più per quello di prima che ha spezzato la sagoma molto bene quindi guardati quello di prima che non si vede per capire come spezzare la sagoma è un 6 e mezzo anche lui 6 e mezzo ma col meme del cesso col meme del cesso diamo un 7 dai col meme del cesso ha tolto il caricatore dalla replica sai qual è la questione che lui secondo me ha cambiato da più volte cioè è partito con una cosa poi è andato su un'altra poi magari ha visto un altro mimetismo è un peccato è un peccato ti vogliamo rivedere e la peppa bello questo tv05 trattino slash shadow e non sappiamo se sei di asd tactical game space se così fosse faccelo sapere un saluto ai ragazzi un saluto a pallek grande pallek sempre nel mio cuore pallek 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 allora il primo elemento che mi piace un sacco è la mimetica quindi la combat shirt con sotto una maglia termica o no a maniche lunghe mi piace molto perché comunque uno si è arrotola le maniche e viene comodo ad avere qualcosa di aderente che non si va ad ingrippare con l'attrezzatura ma fa anche vedere che capisci un accidente di qualcosa di come funziona il tuo corpo bello e molto tattico il fatto che abbia oscurato la faccia patch del fog quella lì no è barba nera penso patch alla moda ovviamente è bella la cinghia ovviamente a due punti perché con 15 kg di replica sarebbe da pazzi non farlo qui 5 solo di caricatore quello che un pochino mi va a far girare le scatole è questa fondina vuota e vabbè io penso che c'essi le scarpe bello il fatto che hai woodland multicam sopra col nero sotto sei in urbano non è che voglio star lì a fare troppe balle poi l'orcetto di più sulle gambe il nero che da sulla parte sopra però sì avrei preferito diverso comunque se guarda è una foto uno ben fatta carina curata 8 più ma no no ma il mio voto è diverso pfff no no papà posto niente eh io non sono d'accordo perché mancano i guanti non vedo i guanti di questa età usare quell'oggetto però ha delle belle mani ma vedere un oggetto così pesante senza guanti cioè ti fai un callo che è spesso così ti rovini tutto questa adesso ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho meno male che è finita a me sta foto allora questa la manda Angelo Superchi Angelo al di là del fatto che l'unica cosa che hai rispettato della comanda era non farla in bagno allora diamo ascolta ascolta qua diamo un voto secco a testa a qualsiasi elemento ci sia in questa foto ok mi piace io chiamo gli elementi e dai il voto ok la sedia qua dietro 4 e mezzo è tutta 3 è vecchia è quella che ti siede e scricchia la ciabatta col calzino del ragazzo col G36 io però qui ti darei un 8 e mezzo perché si camuffa perfettamente col parquet è vero adesso andiamo col bro vestito per roba che si fa con la propria amorosa il ruolo 6 per la replica mi piace la maschera è temerario per me è un 7 abbiamo abbiamo il falegname qui di fianco quello con gli occhiali da saldatura ma è una ragazza secondo me cosa dovrei capirlo dai piedi molto piccoli guarda le mani è una ragazza dai ma gli diamo un pronome non assumiamo il genere 6 più e invece ti sbagli allora basco del padre che ha fatto sicuramente il militare aspetta guarda il fucile ah è il 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 ma guarda scalza hai ragione che nervoso non lo sai se è donna va bene e scaglio punto tutto andiamo avanti bello questo è un fungo vise vise oh ma porco schifo e anche scusami oi ma guarda che bello che è intanto abbiamo il multiland come base di mimetica finalmente abbiamo vabbè bsr10 non è dato sapere che marca sarà un well se hai pittato un maruise davvero coraggioso la patch glowgear italia ranger green il chest rig della elicon sempre ranger green penso occhierini a rete ma ci può stare se si trova comodo così ragazzo ghilli su di lui e sul fucile si tra l'altro la ghilli non è quella di merda che tu compri e fai è una ghilli di un certo tipo la swamp sniper ragazzo anche la sciarpa rete comunque è vegetata non è multiland va bene ma così se la può tirare in faccia se serve o sbattersi pattern giusto colori sbagliati io qua do un 9 non me ne frega è un cazzo io qui do un 9 va bene non c'erano voti brutti a parte quelli non ci sono stati ma perché ha partecipato meno gente che secondo me la prima volta è stata blastata meramente ok però noi vi invitiamo nonostante magari non vi sentiate con un setup abbastanza giusto a mandarci comunque le foto perché non è che vi stiamo insultando vi stiamo dando dei consigli per migliorare il vostro setup cioè se a te avessero chiesto di mandare una foto boh dieci anni fa saresti stato molto meglio di quello che c'era in quelle foto per il prossimo video non fatevi scrupoli mandateci le foto anche se sono brutte l'importante che sono fatte è con il giusto gusto niente piedi nudi stavolta tra l'altro solo calze top è vero è vero niente tavolette aperte cioè comunque ascolta detto ciò noi vi ringraziamo per essere arrivati fin qui vi ricordiamo che in descrizione c'è il logo e il logo vi ricordiamo che in descrizione ci sono i link dei nostri social che sono recentemente cambiati in M Tactical Shop ci trovate praticamente ovunque con una variante del trattino basso alto in giro c'è il link in descrizione esatto vi ricordo inoltre cosa molto importante che c'è ovviamente anche l'online shop dove potete acquistare incredibili prodotti da soft air e farvi consigliare da esperti nel settore le cose migliori per voi trovate tutto linkato addirittura questa maglietta la patch nuova tutto quello che vedete anche di background è linkato perché è presente nello shop quindi fateci un salto purtroppo siamo arrivati alla fine di questo incredibile nuovo video vi ricordiamo di rimanere sintonizzati sui social perché chiederemo e vi manderemo un preavviso non troppo larghissimissimissimo per partecipare al nuovo Raid Maise Trap a questo punto il nuovo Raid Maise Trap tre qui da Raid è tutto qui da War è tutto e come al solito stay angry ti sei mai chiesto cosa succede se ti infili una mentos nel